buonasera allora signori buonasera buonasera instagram buonasera facebook ho messo il timer perché adesso in avanti cercherò di fare dirette sempre minori 10 minuti così che io possa inserire e lasciarle anche su instagram nel canale IGTV allora parliamo andiamo subito nel vivo di cosa parliamo stasera parliamo su una delle richieste più ambite delle informazioni più importanti che possano agevolare la vostra situazione la vostra qualità di vita allora come faccio a sopportare un capo insopportabile come si fa condividi questo video perché ti sto per svelare l'arcano allora innanzitutto non ci sono segreti diciamo strategie magiche pillole informazioni segrete no quindi come fai a sopportare un capo insopportabile prova a pensare che cos'è che spinge le persone a superare imprese apparentemente insormontabili insuperabili grandissime difficilissime e il motivo per il quale valga la pena di affrontare superare quell'impresa quindi devi innanzitutto chiederti perché io devo svegliarmi ogni mattina ogni giorno lavorativo andare a sopportare questa persona quando il tuo perché è chiaro ok iniziamo a fare delle strategie allora perché devo sopportare questo capo perché non ho alternative perché voglio questo lavoro mi garantisce la serenità tra virgolette che poi non è vero però magari ti sta illudendo ed è così oppure perché magari io sto lavorando con diverse persone che vogliono crearsi una un'attività loro per raggiungere non perché vogliono mettersi in proprio altro perché vogliono raggiungere un risultato economico migliore vogliono slegare il guadagno dal tempo il guadagno dal tempo quindi magari per loro la motivazione è questa questo primo lavoro mi serve per autofinanziare la seconda attività e allora va bene io sono anche disposto a sopportare un capo che non è sopportabile ok cioè che è veramente pesante anche perché se tu non hai la motivazione ti licenzi da lì vai da un'altra parte pensi che ci sarà un capo migliore la condizione da dipendente o da subordinato da collaboratore prevede sempre soprattutto qui in italia che abbiamo per il 99 per cento 95 per cento una piccola media impresa ok prevede sempre delle dei capi che non siano proprio idilliaci cioè che sono accentratore che ti stanno addosso che insomma che non magari che sono fastidiosi però anche loro hanno il loro cioè è il loro ruolo tu sei il dipendente appunto sei questo il tuo caso non lo so in ogni modo se ad ogni modo se tu quindi hai ben chiaro il perché devi sopportare questa situazione e ti focalizzi ogni volta che ce l'hai di fronte ogni volta che ti stai assillando ti focalizzi bene io devo tenere duro perché tenendo duro questo obiettivo posso uscire da una situazione che non mi piace quindi come le persone che sto seguendo io mi posso autofinanziare l'attività che mi permetterà fra sei mesi fra un anno di uscire e crearmi una mia attività oppure sopporto questo perché mi va bene così e mi garantirà la pensione un uno stipendio in più a casa non lo so quello che è quindi se tu quando ce l'hai di fronte a posto che iniziare a pensare ecco sempre il solito e adesso ricomincia allora se parti così ti crei una condizione uno stato animo che è più che auto frustrante quindi non solo lui è frustrante ascoltarlo tu aumenti la dose quindi vivi tutto al peggio se invece tu beh dici bene sta ricominciando ma perché io devo ascoltare perché questo lavoro mi permette di arrivare qui uscire da là raggiungere questo sogno evitare questa situazione pagare quella scadenza finire pagare un debito e poi dopo non lavoro più o non lo so quello che ti pare ok mi permette di mandare a scuola i miei figli ok mi permette pagare i dottori quello quello che vuoi tu quando tu hai chiaro il motivo il perché ti sembrerà meno difficoltoso e lo affronterai perché cambierà il significato alla situazione se invece tu non hai le motivazioni chiare ti senti in obbligo ogni giorno diventa sempre più pesante una volta ti dice una cosa una volta te ne dice un'altra tu ti focalizzi sempre sul problema non vedi altre soluzioni perché magari reagisci piuttosto che agire e creare un minimo di obiettivo sei messo un anno per crearti una situazione un po migliore però questa è una scelta tua e allora capisci che vivrai tutto il peggio quindi dipende da te allora poi questo è un piccolo esempio ma è chiaro che se tu non hai obiettivi nel lungo periodo qualsiasi in qualsiasi situazione tu ti troverai tu ti focalizzerai sempre sul problema perché se non è l'obiettivo se non è chiara la tua motivazione per investire energie risorse e vivi di inerzia cioè vivi di inerzia fare cose normali da fare scontate da fare non hai mai una motivazione non riuscirai mai a ottenere un risultato rilevante ma è nulla poi un'altra cosa se per esempio tu vuoi ottenere di più della vita devi allenarti come ho detto mille volte magari se hai visto altri video lo hai capito bene spero che tu lo stia applicando devi allenarti a gestire la tensione lo stress la pressione quindi un altro modo per affrontare al meglio un capo insopportabile ma altre situazioni che ti generano che ti generino stress tensione e via discorrendo quando arriva quel momento lì che arriva il capo che inizia essere pressante pesante bene tu lo devi vivere con un momento di allenamento questo è un miglior allenamento il miglior allenamento che tu possa avere perché per allenare la gestione dello stress della tensione tu devi ricreare quelle condizioni creando quelle condizioni vivendole come allenamento tu vai ad allenare il momento di stress e di tensione non c'è un dono più importante e più bello se tu lo sai sfruttare quindi tu imparerai se ogni volta che ti si mette di fronte diventa insopportabile tu al posto che dire ecco ricomincia con la solita storia dice bene ecco il momento in cui alleno l'attenzione lo stress e lo devo ascoltare in modo attivo senza creare nuovi discordi e senza dargli un motivo per il quale litigare lo ascolto faccio il mio ruolo quello che mi viene chiesto non faccio né di più né di meno però io mi alleno a gestire questo momento quindi vivrai tutto al meglio anzi non solo vivrai il meglio quella situazione ma sarai anche la domenica sarai anche allenato a gestire lo stress quindi non solo vivi quella situazione non in modo frustrante ma crei un vantaggio competitivo te lo crei tu ti alleni tu perché se non lo fai tu nessuno lo farà per te bene signori io sono sotto i 10 minuti perché se no non riesco a tenere il video su instagram gtv quindi fate tesoro di quello che vi sto dicendo perché queste cose che io vi sto dicendo le avrete nei corsi in corsi che costano tanto ok quindi fate tesoro non vi dico ve ne do una per video ok quindi ascoltate mettete in pratica condividete ma soprattutto mettete in pratica quotidianamente perché se no non ci sarà nessuna pillolina magica nessuna strategia magica ma c'è impegno sacrificio e perseveranza con le azioni giuste e mirate quindi se vuoi maggiori informazioni clicca nel link youtube e facebook e qui su instagram ancora non ho capito bene ma lo metteremo viene il corso e ci vediamo o da questa parte o dall'altra ciao